Sì, diciamo che stiamo continuando a far bene, perché anche domenica scorsa in casa col BF non meritavamo assolutamente la sconfitta, volevamo un attimino rimetterci in carreggiata per quello che poteva essere un risultato negativo in casa domenica scorsa, abbiamo fatto secondo me un grandissimo primo tempo e loro probabilmente non lo so, non si aspettavano la nostra formazione così agguerrita o comunque questo tipo di gioco nostro, dopodiché nel secondo tempo abbiamo un attimino gestito anche perché loro sono una secondo me delle accreditate alla vittoria finale, anzi faccio i complimenti al Montesacro, al loro mister, ai ragazzi perché sono veramente una grandissima squadra, però noi alla fine abbiamo avuto il merito di non mollare nulla e alla fine l'abbiamo anche chiusa, fortunatamente. No, noi non abbiamo degli obiettivi, abbiamo la domenica, domenica dopo domenica affrontiamo tutti gli avversari consapevoli che non della nostra forza ma di quello che sappiamo fare e un merito particolare va a tutti questi ragazzi della mia rosa che tra chi va in tribuna e chi gioca da domenica a domenica può anche cambiare, però stanno tutti domani, per esempio ci alleniamo, mercoledì ci alleniamo e stanno dando la massima disponibilità, finché avrò la massima disponibilità da parte di tutti, ce la giocheremo domenica dopo domenica, domenica andiamo a Setteville, campo ostico, abbiamo perso in Coppa Italia 3-2, andiamo lì e ce la giocheremo, domenica prossima non so neanche chi abbiamo e domenica dopo domenica. Noi non abbiamo nell'obiettivo di salvarci a buttare i palloni in tribuna e nell'obiettivo di vincere perché ci sono altre pretendenti alla vittoria finale.